In questa video guida parliamo di oli di rosa mosqueta pura. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. L'olio di rosa mosqueta, o muschiata, si ricava da un arbusto che cresce in Cile ed è utilizzato in cosmetica per le sue proprietà dermatologiche. Tra i benefici che apporta alla pelle il principale è il rinnovamento dell'epidermide, per cui tra gli utilizzi più comuni troviamo l'attenuazione di alcuni segni visibili come le cicatrici, le smagliature, gli eritemi solari, nonché le macchie dovute all'età e le rughe. L'olio di rosa mosqueta non unge e dei di rapido assorbimento, ma si trova in commercio anche sotto forma di perle ripiene da ingerire che grazie agli antiossidanti che contiene aiutano a proteggere l'apparato cardiovascolare e cerebrale. Grazie a tutti.